Il decreto potrebbe essere emesso al massimo entro i primi giorni della prossima settimana. Gli atti per la prorogavia necessari ai lavori della base gas di Eni sono alla firma del ministro Sergio Costa. La conferma è arrivata ieri dalla deputata nazionale Giussi Bartolozzi che come il senatore Grilino Pietro Lorefici sta monitorando l'iter anche attraverso i suoi canali istituzionali. Ieri mattina gli è stato confermato che gli atti sono alla firma del ministro. La deputata riteneva che già qualche giorno prima ci fossero buone possibilità per il rilascio. E' un passaggio cruciale almeno secondo le istituzioni locali, i sindacati, i manager radieni anche al termine del tavolo delle polemiche di martedì. Hanno ribadito che se la proroga non venisse rilasciata entro il 15 ottobre i contratti stipulati dovrebbero essere rivisti interamente. Bartolozzi conferma che la procedura viene costantemente monitorata. Secondo i sindacati l'avvio vero e proprio dei cantieri della base gas potrebbe assicurare garanzie occupazionali non solo all'indotto ma anche ai dipendenti del diretto del cane a sei zampe. Prima di tutto però serve il rilascio della proroga via e ovviamente l'avvio dei cantieri.